I carabinieri della compagnia di Castellamare Vistabia hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città. Nella lente dei controlli preziosissimo il contributo del nucleo cinofili di Sarno, il quartiere Savorito. Decine le perquisizioni con particolare attenzione alle aree comuni. Attraverso l'attaro i carabinieri hanno perquisito l'intera area e lì sono stati controllati scooter e auto sospette. In una Mercedes intestata da una società di noleggio sono stati rinvenuti e sequestrati due jammer, dispositivi utili per inibire le frequenze radio e un rivelatore di cimici e di sistemi di videosorveglianza. Nelle aree condominiali invece sono stati trovati più di 40 grammi di droga tra cocaina e marijuana. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.